A Ficarra si svolge il 25 marzo e il 3-5 agosto la festa di Maria Santissima Annunziata. Nella processione del 25 marzo la vara contenente la pesante statua marmorea della Vergine viene condotta in processione da portatori scalzi e preceduta da un albero di alloro decorato con nastri multicolori. In passato gli alberi di alloro trasportati in processione numerosi e decorati con frutta, fazzoletti, variopinti, festoni rappresentavano i vari quartieri del paese in una sorta di gara per l'allestimento dell'albero migliore.